I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Dal numero 1 e numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. E' la casa dei numeri puoi venire anche tu dove il cielo è più blu casalotto in tv. Buongiorno buon venerdì allora inizia un'altra giornata in compagnia di casalotto questa come sapete è una mini puntata con un mini consiglio ma molto molto importante anche perché questa sera ci sarà una nuova estrazione quindi attenzione a quello che dirà il nostro Marco che saluto buongiorno. Ciao ciao Clara un buon inizio di giornata perdonate la voce sapete che non è il mio periodo migliore ma non è che ne abbia molti all'interno dell'anno un buon inizio fine settimana siamo un po di fretta perché oggi abbiamo in realtà solo questa mini pillola e la diretta pomeridiana per affrontare questa sera la tredicesima estrazione del mese. Ieri sera è andata bene non c'è molto tempo per parlarne poi insomma qualcosa mi farò sfuggire sentiamo qual è l'argomento e poi vi voglio subito in redazione perché di che cosa parleremo e devo dire che ieri sera ne abbiamo già ampiamente parlato durante l'estrazione il 9 e il 90 che mantengono questo percorso estremamente speciale da qui alla fine del mese. E non è che manca molto insomma meno di una decina di giorni. Allora parleremo ancora delle serie tv in giallo di Don Matteo che non so se tu hai mai visto con Terence Hill e con sì 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 bello mi piaceva mai visto una puntata? Sì perché c'è comunque giallo insomma e poi era divertente il personaggio il prete investigato carino sì sì carina carina infatti ha avuto un successo enorme in Italia quindi però non l'ho mai visto stranamente. E' carino perché poi è un po' commedioso quindi c'è molta ironia simpatia poi c'è la sua perpetua che io adoro non ricordo mai il nome di quell'attrice e mi fa impazzire io amo follemente la sua sana follia che credo poi appartenga proprio a lei perché l'abbiamo vista anche in altre situazioni per cui è proprio matta come un cavallo. Mi piace proprio tanto. Bene non parleremo di quello. E Natalina mi sembra? Vabbè mi verrà in mente. Adesso andiamo un attimo in redazione così poi possiamo chiacchierare qui in studio con più calma e andiamo subito a vedere il Lambo più forte col 9 e il Terno fortissimo col 90 perché stasera ancora il 9 e il 90 separati in questo caso sono super attesi. Venite con me. Ah no ho fatto un'inversione io di traiettoria. Partiamo dall'895 poi andiamo a vedere l'altro dove c'è ovviamente il Terno del venerdì sera con il gioco del 90, Lambo d'oro con l'88 e attenzione al Terno del giorno perché questo stavo dicendo poc'anzi in studio proprio ieri sera ne abbiamo ampiamente parlato della possibilità del gioco dei numeri gemelli ed eccolo qua il Terno gemellare. Quindi tre piccole strade poi torneremo a parlare di 9 e 90 perché sono questi i due consigli che vi voglio portare. Questo è un mini tutto in uno nell'895 e 095 dove vi aspetto con lì al tasto 3. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. giorno, dai ci sta, prima era un po' prima, adesso un po' dopo, anche alle 9 ne parlavamo di mangiare, dai proseguiamo. Allora parliamo della serie di Don Matteo, nel 1999 il sacerdote cattolico Don Matteo Minelli, dopo aver trascorso moltissimi anni all'estero, lui appunto dopo tanti anni all'estero come missionario torna nella sua regione natia, Lumbria, e diventa parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, in carico ottenuto grazie al suo amico vescovo Guido. Grazie all'amicizia e alla collaborazione con il marisciallo Nino Cecchini, il presbitero, si occupa dei casi seguiti dai carabinieri e spesso contribuisce a risolverli grazie a un indizio decisivo che talvolta gli arriva per intuizione innata, la sua attività poi di investigatore non è molto gradita né agli ecclesiastici, sui superiori né ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei carabinieri che cercano sempre di tenerlo lontano dalle indagini, pur avendo stima di lui però come dire sempre tra i piedi, 13 stagioni, 265 episodi con Terence Hill e poi Raul Bova, anche lì io mi sono persa anche la parte con Raul Bova, come è stata? Credo che sia nuova la parte nuova, allora di 200 e passa noi avrò visti 50, non sono uno che si strappa le vene, ma quando c'è, va in onda, lo guardo assolutamente e volentieri perché mi piace, mi piace poi insomma il contesto, nonostante come dicevamo io e te nei fuori onda, anche io non sono un appassionato delle produzioni italiane, a volte le trovo, insomma un po' così, trovo che c'è di meglio, però alcune non nego che mi piacciano, questa è una di quelle e sì, è proprio bello, è divertente, poi vabbè c'è quello che piace a me, cioè il giallo, cioè scoprire il mistero, svelare l'assassino, l'ambientazione è tutta italiana, c'è della bella ironia, mi piacciono gli attori, per cui insomma devo dire sì, quando c'è e la becco la guardo volentieri, mi è venuto in mente, è vero che la stavano registrando, oltretutto mi è dispiaciuto molto di questo episodio di cronaca ormai, su Nino Frassica, che insomma è stato veramente infangato in una maniera folle, lui la moglie per la sparizione del gatto, sì, insomma ciò che hanno fatto vedere sono dei filmati, insomma sì, un po' esagerati, però bisognerebbe capire chi li ha tirati a quel livello o se lo sono, comunque io lui lo amo, a me piace tanto, è un comico Frassica che mi fa impazzire nella sua stramba follia, io poi tutto ciò che è un po' folle, fuori dalle righe, mi piace, ecco sicuramente non gli ha fatto molto bene questa brutta pubblicità, ed è tutto poi legato a Don Matteo, perché loro hanno vissuto in questa città dove viene girato e lì c'è stata questa sparizione di questo gatto che ha creato, insomma devo dire, una serie di problemi, una serie di denunce, di minacce, insomma una roba orrenda, trovo che sia veramente brutto come è venuta fuori sta storia, poi boh speriamo ci sia un fine, è vero che lui non ne parla però, non dice nulla, è più lei credo che era in primo piano, che si è sposta, poi è facile riprendere una persona che inveisce contro, io sono uno che si scaldano non facilmente, però se io parto posso fare peggio della moglie di Frassica, bisogna vedere se la mia vicina di casa mi ha tirato a quel punto, perché poi è troppo facile fare un video e giudicare quel video, ma quel video come ci sono arrivato? Cioè se sei una pazza furiosa, vabbè uno se ne fa una ragione, non è un problema, peccato chi ti sta insieme, però se poi quella cosa lì è il risultato ed è il frutto di una serie di brutte cose, perché la gente è cattiva, poi magari viene ripreso il tuo momento di sfogo dopo anni di cose brutte e allora sei tu che sei pazzo, non lo so, io prima di sputare giudizi di tutto quello che abbiamo sentito, mi piacerebbe sapere come sono andate davvero le cose, loro non parlano, per cui mi dà l'impressione che sia un po' diversa la storia, vabbè vedremo, tre minuti dobbiamo correre, allora come ho detto prima, portale al costo di un caffè, Ambo con 9, Terno fortissimo con 90, siamo noiosi, ma 9,90 anche questa sera nell'estrazione del venerdì è straordinario, venite con me! E allora velocemente nel portale al costo di un caffè dove vi aspetto con l'Io al tasto 3, attenzione al Ambo con 9 e al Super Terno con il 90, tutto qua, vi aspetto, tasto 3! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo tra poco. Ciao, a dopo.